salve a tutti amici youtube sono io matokurama e oggi vi porto elisabeth mecha ve la spiego come come il personaggio e tutto e perché è uscito l'evento oggi ieri in verità allora ve la porterò no perché non ci avrei tempo e aspetterei il nuovo evento però la farmerò perché ci sono oggetti molto interessanti che mi servono allora elisabeth c'ha anche la sua controparte mecha mk2 però sono le loro skill sono identiche quindi niente questa parliamo della sua prima skill e poi vi parlerò di una cosa più importante questa ci garantisce il critical stars per 3 turni e incremento della difesa per 3 turni le 10 e 30 per cento di di difesa poi ci abbiamo alla questa che ci aumenta la np e questo che non mi ricordo quello che fa però del 20 per cento a livello 1 10 per cento anche questa ci da np damage e critical damage più e change remote debuff questi qui questi indicati la sua ultimate è un rimuove debuff 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 e a single target debuff a un nemico a livello 1 20 per cento a livello 5 50 40 per cento questo il personaggio ma che lisa è carina fa parte della categoria alter ego e non è male allora vi volevo dire che per ora sto sul portatile non sono sul fisso perché registravo tutti i due giochi elzord e quando giocavo a fate qui sul fisso e per ora porterò solo video di fate elzord un per un po sarà annullato finché non torna il computer quello il portatile quindi chi voleva seguirmi anche per elzord seguite anche un po fate perché vi spiego anche un po i personaggi anche se non ci giocate seguitemi comunque e niente ragazzi vi ho portato il video in me c'è ma che lisa non mi porto anche la sua versione mk2 e domani se il programma non fa problemi con la connessione tra le due tra i due tra il telefono e il computer vi porto elisa elisabeth castor chi mi vuole vedere chi lo vuole vedere ditemelo io intanto vi metto sopra in descrizione sopra impressione l'ultimo video che abbiamo fatto di elisabeth così siete aggiornati dove siamo arrivati con le elisabeth vi porterò caster poi la saber che ce l'ho io quindi state tranquilli non mi serve e poi vi porterò forse lei se ce la porterò a full ascension e niente ragazzi ci vediamo un prossimo video commentate e iscrivetevi e noi ci vediamo un prossimo video bella ragazzi